Guarda, guarda che curvi no, leo mio è bello. È bella, è bellissima solo che purtroppo ci ha pagato quattro rane di un pesta. Vedo quella sotto la sta riparata di più, come questa qua, è qualche gran, ma bisogna passarla tutta, tutta qua è tutta col vino e col vino. I gradi abbiamo provato con Stefano, io ero 22 gradi, la falla marrone è ottima. Di solito non dobbiamo neanche diserbanti niente, perché preferisco passare in mezzo con il decespogliatore, e la vigna mi piace tantissimo. Venivo giù ancora, avevo dieci anni più o meno, adesso ne ho qualcuno in più. Grazie. 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 Grazie.